Vi mostro come si effettuano le ricerche per affinamento all'interno di Preludio Music Library. La barra verde è il nostro mixer e sono sette parametri, potete partire da uno qualsiasi di questi. Facciamo l'esempio, orchestrazione. L'orchestrazione raccoglie tutti gli strumenti che compongono il brano musicale. Sono in ordine alfabetico e potete trovare veramente di tutto, le congas, il mug, il gong, il fischio. Per esempio immaginiamo che stiamo cercando un brano per pianoforte solo. Diciamo cerca, il sistema come vedete è molto veloce, individua circa 400 brani. A questo punto noterete che in alto a sinistra compare a fina ricerca per. Poiché ascoltarsi 400 brani è sicuramente un'operazione molto lunga e complessa, possiamo filtrare ulteriormente, ad esempio chiedendo al sistema di selezionarci soltanto di questi brani per pianoforte solo, quelli con l'atmosfera evocativa. A questo punto i brani risultano essere 32, sicuramente un numero più semplice da affrontare. Ogni singolo parametro, come vedete, può essere eliminato individualmente o volendo è possibile anche azzerare tutti i parametri di ricerca e ricominciare da capo. Andiamo ad ascoltare uno di questi brani che abbiamo individuato ed è un brano per pianoforte solo con la componente evocativa. I mesi andiamo ora di effettuare un'altra ricerca. Partiamo per esempio dal genere musicale. Vedrete qui i generi musicali più popolari. Cliccando su visualizza tutti i generi appaiono tutti i generi contenuti all'interno di Preludio Music Library. Indy Rock cerca, troviamo 114 brani. Possiamo a questo punto chiedere al sistema di individuarci tra questi 114 brani quelli che includono una chitarra elettrica poiché stiamo cercando qualcosa di particolarmente aggressivo. Ecco che i brani si riducono a 19. Proviamo ad ascoltarne uno e vedere se ci sono le chitarre elettriche. Grazie a tutti.